Ciao, benvenuto in questa nuova puntata, questa volta dedicata al concetto di libertà. Essenzialmente la parola libertà fa parte del mondo reale. Il nostro essere profondo è la libertà. Ora vediamo che cosa succede quando lo stesso concetto si riflette nel mondo virtuale. Noi sappiamo benissimo che l'esperienza del mondo reale è la sua riflessione ed inversione appunto nel suo opposto proprio nel mondo virtuale. E il mondo è virtuale e illusorio proprio perché è la proiezione stessa di questo mondo. A questo punto che cosa succede a questo concetto di libertà? Comincia ad assumere i connotati tipici della virtualità e anche i verbi che lo associano sono tipici della virtualità. Vediamo per esempio, facendo riferimento al concetto che ho enunciato nel post relativo al verbo avere, che noi nel mondo virtuale vogliamo avere più libertà o comunque vogliamo avere almeno una base di libertà per poter esercitare la nostra esperienza. Quindi da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della realtà virtuale, del mondo illusorio, del mondo che noi percepiamo come reale del mondo della materia ma che reale non è, è solo una proiezione del nostro essere profondo, ci rendiamo conto che all'interno di questo mondo virtuale la libertà è divisa, cioè diventa divisa duale esattamente come tutte le caratteristiche opposte che abbiamo all'interno di questo mondo virtuale. E perché diventa divisa? Proprio perché noi cerchiamo la libertà fuori da noi. Qualcuno ci deve dare la libertà di esprimere le nostre caratteristiche interiori. Perché diventa duale? Perché da questo punto di vista ritorniamo come nei discorsi che facevano i post legati al discorso dell'interiorità e dell'estoriorità, vediamo una parte di noi divisa, vediamo l'esterno di noi e l'interno di noi. Quindi ci sentiamo divisi all'interno del mondo della virtualità e in questa divisione noi cerchiamo dagli altri la libertà di espressione, la libertà di movimento, la libertà di manifestazione del nostro essere. ma questa non è la libertà. Il concetto di libertà è legato al nostro essere profondo, che non è diviso, che non se ne frega niente delle regole della virtualità. Perché la virtualità in quanto mette delle regole, in quanto è organizzata ed è strutturata è necessariamente duale, perché deve far vedere due prospettive opposte di quello che opposto non è. Il nostro essere interiore non ha nessuna forma di divisione, è inconcepibile pensarlo diviso perché il nostro essere reale è la capacità di avere e di essere tutte le possibilità che diciamo l'uomo completo, l'uomo integrato, integrato nella sua coscienza, riesce ad essere. Ora l'uomo integrato ha integrato l'avere nell'essere e quindi il mondo virtuale gli serve semplicemente come esperienza attraverso la quale per differenza può comprendere se stesso. Ritornando al concetto di libertà, a questo punto noi siamo già liberi. Non possiamo cercare fuori qualcosa che abbiamo già dentro, che siamo dentro. La libertà è come l'essere profondo è ed esprime e manifesta la sua azione proprio nel mondo virtuale. questo perno fermo che abbiamo al nostro interno che è veramente il patrimonio di tutta l'umanità è il patrimonio che abbiamo consolidato da sempre. Il patrimonio che non ha tempo e che non è configurabile in una dimensione temporale perché è, sarà ed è stato sempre così. E' soltanto che ha necessità di esplicarsi per potersi conoscere. Ora chi concepisce il concetto di libertà è colui che ha comunque fatto un passo dalla disidentificazione con la disidentificazione con l'illusione verso l'identificazione e il ricordo di chi è veramente. Cioè è identificato con la realtà reale, quella che è e agisce nel mondo virtuale, il protagonista del mondo virtuale. Non colui che subisce all'interno della virtualità l'illusione della virtualità stessa. Non si può partire da una mancanza per conoscere se stessi. Noi siamo già pieni. E' in questa pienezza che dobbiamo esplicare la nostra presa di coscienza. E la presa di coscienza significa integrare questo mondo illusorio all'interno di se stessi. Perché la coscienza che siamo noi è una coscienza che ha necessità di conoscersi. Per conoscersi però deve comprendere il concetto di libertà. E per comprendere il concetto di libertà deve ricordarsi chi è. Ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao! Ciao! Ciao!